Mappe, disegni e illustrazioni cartografiche che documentano la storia e i percorsi dei trattori e della transumanza sono stati esposti presso l'Archivio di Stato di Chieti in occasione delle giornate europee del patrimonio in collaborazione con il Club per l'UNESCO di Chieti. La visita guidata ai documenti d'archivio, aperta al pubblico e con ingresso libero, è stata accompagnata dagli interventi di storici e studiosi sui temi della transumanza e dei trattori. Pietro Federico, direttore dell'Archivio di Stato di Chieti. Quanti erano i trattori? Ci sono ancora o magari l'antropizzazione li ha in parte cancellati? I trattori sono tre, i tre trattori principali, il tratturo Magno, il Centurelle Montesecco e il tratturo L'Aquila Foggia e quindi sono i tre trattori principali e poi a questi si aggiungono tutti i bracci di collegamento, tutti i trattorelli che facevano confluire tutto il territorio abruzzese verso i trattori principali e tutt'oggi sono visibili tant'è che la cartografia che andremo a esporre mostrerà questo aspetto. La transumanza è già stata dichiarata patrimonio immateriale dell'UNESCO e quindi abbiamo pensato anche per un fatto diciamo culturale di trattare questo argomento avendo delle carte che sono importanti sia nei fondi che riguardano la doganella d'Abruzzo, il governatorato sia per quanto riguarda anche i fondi relativi ai notai e agli atti notarili perché molti di questi documenti ancora non sono stati scoperti perché sono all'interno di una documentazione archivistica che ancora deve essere studiata e scoperta. Cinzia Di Vincenzo, presidente del club per l'UNESCO di Chieti, si parla oggi tanto di turismo esperenziale. Il tratturo da questo punto di vista può essere un buon punto di partenza? La riscoperta di questo mondo della transumanza dei tratturi sicuramente rappresenta un'occasione di riscoprire percorsi e una cultura tradizionale accanto a greggi che ancora oggi si spostano. Noi per esempio a maggio abbiamo organizzato un'attività di accompagnamento ascoltando i pastori e vivendo per alcune ore proprio questo spostamento. Quindi è stato possibile immergersi in questo mondo. Nel rispetto degli scambi culturali perché i tracciati mettevano in collegamento comunità molto distanti tra loro e quindi era un'occasione di convivenza, di tradizioni e culture diverse che arricchivano e creavano anche un clima di rispetto reciproco. Uno scambio anche economico, di artigianato, di economia che era legata alla transumanza. Quindi è un mondo immenso da riscoprire anche con piccole esperienze come quelle di accompagnare un greggio da una parte all'altra del nostro territorio.